Tende a ritrarsi Tosca Gioi dall'esterno dell'Ala. Partita la Coppa di Milano con Tinto che cerca di scavalcare Tamiaget. Tinto riesce nell'intento. Tamiaget tiene i piedini però all'imbocco della curva. Frusta addosso Andrea Farolfi, poi c'è Shomar in mezzo alla pista. Ugo Linas, partenza molto violenta con Tamiaget che rientra a Tinto ma la spesa è evidente i 200 in 13. Spesa continuata, Tinto non avendo posizione continua a insistere ma Tamiaget ormai l'ha respinto. In corda si è buttato Pietro Gubellini con Tiago Tri. In terza ruota rimane Ugo Linas, in pariglia c'è Shomar avanti a Tarim. 400 in 27.7, Ugo Linas sta ancora in terza ruota come in batteria. Ora va a sopravvanzare Tinto che scoperto non ci vuole stare. Perdono una pariglia Shomar e Tarim. In mezzo alla pista Unitalia e i 600 in 41.8. In vantaggio Tamiaget ma ha speso un patrimonio. Unitalia si mette sulle gambe in terza ruota sapendo che davanti hanno speso. Tamiaget percorre un secondo parziale ancora svelto in 29.6, fa 57 spicci la metà gara. Tamiaget in vantaggio, Ugo Linas ha lo scoperto. Unitalia che non perde tempo e punta dritto in terza ruota. Il parziale cattivo di Unitalia quando ci si avvicina un chilometro. I mille di gara in 1.11.9. Tamiaget deve ribattere a Ugo Linas che ancora vivo al suo esterno. Santino che si volta a destra. Unitalia in terza ruota. Tiago Tri lungo la corda. Tinto in pariglia. Tarim che non ha ancora lo spazio. Poi viene in mezzo alla pista. Quello che è chiuso è Shomar. 28.6. Il terzo parziale con Tamiaget ancora in vantaggio. Nei confronti di Ugo Linas. Si volta Alessandro Gocciadoro. C'è ancora in mano Tamiaget. Ugo Linas insiste. Tarim prova a dare la bordata. La bordata di Tarim. All'ingresso in retta. Tamiaget è stanca. Tarim a centro pista. Prova ad avanzare sul passo Ugo Linas. Tamia di dentro. Ugo Linas che passa. Tarim che deve dare il colpo di Reni. Tarim. Ugo Linas. Tamia. Finale scoppiettante sul palo. Ugo Linas. Prestazione mostruosa dell'allievo di Santo Mollo. 29 ad arrivare. 1.55 il rotolo. Prestazione mostruosa. 500 in terza ruota. Poi tutto allo scoperto. Ugo Linas ha avuto una batteria catastrofica. Ma invece qui attacca su Tamia. e ha la forza di ribattere a tutti i tentativi di Tarim. Ugo Linas sul palo. Batte Tamia. In linea c'è Tarim. Ha stracorso pure Tamia.